Tutti possiamo parlarne, è questo il titolo dell'evento che si terrà domani sera in Piazza Calandrini a Sarzana a partire dalle ore 21 e 30. Quali sono gli obiettivi di questo appuntamento? Dunque, l'idea di fondo è quella di trasformare gli elettori in cittadini veri, quindi in cittadini che possono partecipare alla cosa pubblica, possono diventare uno stimolo per le amministrazioni, possono avere naturalmente anche una funzione critica. Si tratta di un grande gruppo di persone che ha scelto di dar vita a questa associazione. L'idea è di funzionare come un pungolo per le amministrazioni e anche dare dei contributi. Abbiamo visto che nella società civile ci sono tantissime persone in grado di diventare risorsa per un'amministrazione. Questo daremo la parola a tutti naturalmente, tutti potranno parlarne, tutti avranno un tempo limitato naturalmente. Io coordinerò questa serata, speriamo che vada bene. Un evento organizzato dall'associazione Sarzana per Sarzana. Scopriamo meglio di che cosa si occupa questa associazione e come è nata. Questa associazione è un'associazione che è nata dopo la fuoriuscita di alcuni consiglieri del Partito Democratico che in questo momento non interessa e non vuole presentarsi alle elezioni, interessa solamente presentare le proprie proposte per la città e le idee che vogliono mettere sul campo. Si parlava di proposte, ci potete magari anticipare qualcuna di queste proposte e magari quali sono i temi su cui discuterete o su cui avete già discusso? Beh, allora i temi sicuramente andranno dalla sicurezza della città fino anche al decoro urbano. Tratteremo quindi anche la tematica dei rifiuti che a Sarzana è molto sentita, soprattutto delle attività commerciali, anche perché sono già stati fatti due eventi pubblici con le attività commerciali del Centro Storico Cittadino che hanno sollevato molte problematiche legate ai rifiuti, quindi sicuramente tratteremo questo tema. L'associazione si è già mossa anche facendo degli incontri pubblici anche su Marinella per affrontare le tematiche che conosciamo tutti e che abbiamo già anche letto sui giornali per la tenuta e domani sera sicuramente ci saranno anche proposte ad esempio per quanto riguarda il decoro urbano legato specialmente al dehors delle attività commerciali ricettive, quindi anche ristoranti e quant'altro perché ovviamente se riusciamo ad avere una città che ha un'omogeneità nella presentazione anche delle proprie attività sicuramente i turisti se la godono meglio, ecco, oltre che ai cittadini.